Salve a tutti Nerers e benvenuti in questo nuovo video di Venerdì 13. Sto facendo un intro postuma per dirvi che in questo video saremo come al solito io, Marci e Tina e questa volta sarà con noi anche Eko, che è sicuramente più esperto di noi nel gioco. Tenteremo la fuga in un modo che ancora non sono riuscito a fare. Quindi ragazzi lasciate un like per Venerdì 13 se volete altri video, mi raccomando, c'è la meme dei 13.000 like che potrebbe essere un giusto obiettivo da raggiungere. Quindi mi raccomando dateci dentro e vi lascio subitissimo con il video. La partita inizia con l'immagine di uno in mutande, perfetto. Io c'ho quella. Ma che bella camicetta Jason. Ma che carino Jason che è. Eh vabbè ragazzi, sopravviviamo. Yeah. Ehi, io ho trovato questa radio lì nel walkie talkie, io non ho ancora capito che minchia serve. A niente. No, quando parli in chat vocale Jason non ti sente con le walkie talkie. Sì. Ma tanto non serve, cioè non parliamo. Ciao, ciao, mi senti? No, non farlo più mai più. Aspetta, come si usa sta roba? Ah, senti eco. Oddio santo. Quindi se io premo ti parlo? Sì. Ciao. A te no. Ciao, sono uno youtuber, seguitemi. Aaron Blaze, sto registrando, finite su YouTube, fate i bravi. Jason, I will destroy your anus. No perché tu non hai vuoto. Prepare your anus. Raga, ho trovato le chiavi. Ho trovato la benzina. Io non ho trovato la batteria. Non è vero, Marco. Non è vero questo. E questa... Raga, ho trovato la batteria. Però anche io, raga. Abbiamo tutto, quindi? Sì. Raga, quale mappa? Quale auto? Quale a destra? Ma raga, ma c'è un cadavere in una vasca. Sì, è normale. Raga, io sto correndo un sacco, però non so. C'è una batteria qua vicino. Oh, raga, c'è una tannica di benzina per terra. Raga, cosa stiamo trovando? Raga, deve essere qua. Ma Aaron, non devi correre però, capisci? Eh, ho capito, ma dove siete voi? Alla macchina. Stiamo qua, Aaron. Aaron, ci sto seguendo Jason. Ah, ciao, Marci. E che fai qua? Raga, è un casino, eh. Ma siamo sicuri di andare alla macchina se c'è Jason? Eh, sì. Raga, dovete distrarre Jason. No, raga, mi ha peccato, peccatemi. Raga, distraetelo, distraetelo. Cosa sta succedendo? Raga, ma non c'è la batteria, non l'avete messa? È lì, ma non c'è la batteria. Raga, ammazzatelo. Raga, devo metterla batteria. Raga, ammazzatelo. Ok, tenetelo distratto. Quante botte che sono. Via, ma ce ne ho io le chiavi, pirla. Ce ne ho anche io, entri. Ma vinti? Parti, 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 parti. Perchè, come c'è possibile? Oh mio Dio, oh mio Dio, voi siete pazzi, siete? Ma che non sono capace a guidare? Grande, grande. Vai, muoviti! Vuoi, vuoi, sono morto, sono morto. Mi sono seguitato per te, Vinci. Perchè è morto, Inku? Cos'è ti ha tirato fuori? Sennò prendeva Marci, sennò prendeva Marci. Mi stava guidando. Oddio, c'è un'altra macchina qua. Ma qua c'è un'altra auto qua. È inguidabile. Ma che disastro stai facendo? No, raga, ma perché stai facendo guidare Marci? Che non è capace. Ma ce ne avevo le chiavi, infatti. Ma ci sei uno scarico. Marci, guardale. Ma lei è rotta. Ecco, ecco, è volata in aria. Ecco, l'hai fatta. E quindi? Marci, ti auguro la peggiore delle morti. Guarda che è rimasta così. Non è che sono dentro la macchina, io. Io me ne sono già andato da un pezzo. Mi fate entrare qua, gentilmente. Voglio entrare in questa finestra! Che c'è Jason! La polizia, la polizia, la polizia. Sì, è andata la polizia. Tami Jarvis. Ok, ma c'è arrivato Jason in casa. C'è Jason. Jason ha lasciato perdere Marci. Marci, ma l'ha lasciato perdere. Gli ho fatto pietà che carri da voi. Ma come? Ma scusa. Che succede qua? Ti ho lasciato stare Jason. Ma no, stavo a chiamare la polizia. Voglio chiamare la polizia. C'era sta shifta... Sta controllando. Eson sta controllando. Cosa sta controllando? Stai in control. Ma Jason sta controllando. Tu eri Esau. Hai detto tutti i nomi della terra. Stai controllando. Don't kill me, please. I'm a good man. I have family. I have children. Don't kill me, please. Ah, ok. Sto riparando. Ho un po' di difficoltà. Ma sta arrivando cosa, vero? È bomber. È bomber. Scappa, scappa, scappa. No, no, no. Scappa, scappa, scappa. Aiuto. C'è uno qui, aiuto. Fammi entrare in casa. No, mi entrare a rotta la finestra. È questa, è questa che non è rotta. Chiudi la porta. Brava, hai già sui chiavi. Qua c'è uno, c'è uno qua. Mi aiuterà lui, non so. Beh, io devo scappare a qualche parte, zio. C'è un'altra finestra. Quella finestra lì. No, sono tutti rotti sono. No, 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 no. Vabbè, senti, apro la fattuta porta. Fanculo. Ma perché? Perché devo uscire da sta casa di merda? Oh, c'è Tommy Jarvis che sta giusto nel telefono, la porta è in quella casa. Ecco. Schiacere, schiacere, che ce la fai? Eh, no. Mi sa che... Ma cosa c'è qua? Perché c'è un coso? Ma che morte è, raga? Ma che morte è? Per me questo qui muore. Per me questa volta si salva... No, 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 no. Eiko! Davvero? Eh, mi sa di sì. Aia. Non dovrebbe essere. Aia. Aia. E' lui! Va, prego. Ecco, ti ho mai detto che... Cioè, mi vuoi bere? Io ve lo dico, io ve lo dico, ecco, sapete che mi ammazzerà per primo, non so cosa me lo dice. Ti prego, ammazza ma sempre. Io sono con una persona che si chiama Kickass. Il film? Prova a chiederglielo. Oh! Ho sentito una musica... Strana? Gesunosa, mi sa. Aiuto, raga. Io sono entrato in una casa da cui... Potrei non dover uscire mai più. Fermati! No! Ah! Oddio! Lo sapevo che mi attaccavi, maledetto! Che sono la mattina su, raga? Io siete voi? Hai visto? Sono qua con Eko a fare una passeggiata. Ah, ecco. Passeggiata con Jason, insomma. Ah, ecco. Sì, sì. Eh, vabbè, raga, basta, però. Le battute si sprecano. Chiché, se metti sta cazzo di benzina, però. Non te ne andai. Ah, la benzina! Come la benzina? No, non dovevo parlare, non dovevo parlare. Basta che non ti tipi vicino a questa macchina, perché in questa non c'è nulla. Non c'è nulla! Eh, vabbè. Grande, Tino, è proprio credibilissimo. No, è vero, sono vicino a una macchina dove non c'è nulla e se si tipa qui sono fottuta. Allora, raga, io vi aspetto alla macchina, ok? Oh, 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 no! Ah, vieni qua! No, ma perché ce l'hai proprio con me? Vieni qua, Eren! No, io sto facendo una passeggiata nel bosco. Il problema c'è. Oh, che bello, questo è il gabinetto! Come? Aspettate, vi faccio il giro qui. No, farei giro lì. No, ma... Ciao! No, guarda, non sei invitato in casa. Puoi tre assieme. Fammi entrare, dai! No! No, non entrare! Io so! Oddio mio! Cosa è successo? Che liscio! Che liscio clamoroso! Niente, ehm... Vieni qui! Sì, sì, ehm... Arrivo, arrivo. Merda. Ho dei problemi tecnico-tattici, mi sa, eh. Dai, non scappare, che palle! Andiamo a un'altra parte, andiamo a un po'. Chiamo tutto a me, Jarvis. Vieni, torno indietro. Non ti picchiio anch'io. Ok, allora voi picchiatevi pure. Tanto io mi rilasso un attimo qua, vicino all'auto. Come vicino all'auto? No, aspetta. Andiamo per il caso visto? Oh, c'era! Oh, una buona, se l'ha presa... Che è questo? No! Se lo sta prendendo con me! Figlio di trotto! Guarda, per me puoi anche non venire da me. Cioè, tienitelo tu, Jason. Vieni qui, dai, stai fermo. Tornale, giochiamo un pochino, giochiamo. Sì, qualcuno oggi. Che mordo! Six, one, nine alla John Cena! Hai visto? No, come si chiamava quella di John Cena? La six, one, nine fatta da John Cena sarebbe un po' grottesca, mi sa, eh. Eccomi! Tommy Jarvis! È tornato. Capelli bianchi. Ok, io mi sto facendo i cavoli miei, quindi rispettate la mia privacy, mi raccomando. Io non disturbo me, io non disturbo lui. Ecco, mi sembra un giusto affare. Ho trovato un oggetto che potrebbe accendere un'auto. Ma guarda che, dove c'era l'hotel. Oh mio Dio no, no. Ecco, vai via. No, no, no. No. Ecco, vai via. Questo, trebbe essere un problema. Non è era, non sapevo io dov'è, eh. Da solo nel nulla che sta vagando, se la sta godendo che noi siamo lì da, dal bond. Ma cosa? No, come faccio? Come faccio? Il tuo sacrificio sarà per sempre rispettato. Ma tu cosa stai facendo di utile all'umanità? Io? Spectro te la rima. Vai in giro con il ramo, ma poi? Ma cosa serve il ramo? Io sto facendo l'auto. Che cazzo vuoi dalla mia vita? Che stai facendo? Ho fatto una cazzo di macchina intera da solo. È vero, non è partita neanche la trappola, non è partita, non rompere. L'hai messa nell'altra la trappola? No, non dovevo dirlo questo. Questo non lo dovevo dire. No, ho messo in tutte e due le mani. Ho messo sei trappole, tre per ogni macchina ho messo, quindi... Menzogniere. Menzogniere. Oh, buonasera. Buonasera. Eh, vabbè. Ma chi stai parlando? Ecco, io voglio solamente mettermi qui in bagno. Vedete, sono in bagno. Perché il mio personaggio gli scappa... Io sono vero, raga, così almeno ci sgamo. Gli scappa la cacca e vuole... C'è Murphy. Oh, raga, io sto cercando come un pazzo. Sto cercando come un pazzo, ma le chiavi non ci sono. Poi avete aperto tutti i cassetti. Guarda, guarda quanti cassetti. Tutti aperti stanno. Eh, sei proprio un pirla. Un pirla cosa? Eh, Zalb, sei troppo intelligente. C'è un'altra casa qui vicino. Tu dimmi, c'è una casa che devo luttare? Me lo dici con qualche segreto? Aiuto, raga, aiuto. La polizia? Aia. Quale polizia? È arrivata. È arrivata. Ops, davvero? Guarda, a caso mi trovavo... Mi trovavo lì che passavo. Mamma mia, Zalb, mire. Cosa ha combinato? Eh, non l'ha sentita quella parte della polizia. Niente. Eh, un po' io te ne stanno scappando, eh. Eh, vabbè. Io me ne sono stato coraggiosamente camperato all'angolo della mappa. L'abbè, ho capirato? Ma che ne è appena scappato un'altra? Bravo, dai, se continui ad andare di lì c'è la pula. Vai, vai a marci, vai. Corri verso la salvezza. Sì, ma dai, non dire dove sto andando. Ma più mettono un po' di hype nel finale? Me la sono fugata io. E poi ti ho visto che sei quello della parte opposta. C'è Claudio che si sta lanciando nelle finestre, vabbè. Oddio, ragazzi, è vero. È un po' mamma. Claudio. C'è tutti noi. No, dov'è? Grande Claudio. Ma non si accorge che... C'è un tipo che gli sta martellando la porta. Premesso a bolletta, devo fare la lettura del gas. Lo vuole ammazzare, raga. Cioè, lo vuole... Secondo me ti vuole stannare tantissimo. Dove sei nascosto? Io? Poi io sto giocando di... Deredo del tipo. Io ti posso dire che se ne sta... Sto scappando! Di qui. Sto uscendo. No! Ho il pelo! Ma mamma... Lo so fatto, Claudio! Non c'è di credere. È entrato di nuovo. È rientrato. Raga, su questo è facile non ha palito alla vita comunque. Ma secondo me sta lamerando. Ah, lui farà 5 minuti switchando le finestre. Esce? È questo il problema. È questo il problema. Se io esco, lui entra. No, no, ci arriva, ci arriva. Sì! Prima della pula! No! Non ci credo! Non ci credo! Occhio che ha la pistola. No, raga, non ci credo. Guarda, lamerando. Non ci posso, credo! Pazzesco! Sei anche lasciato dietro i botti per festeggiare. Direi che su questi botti di capodanno chiudiamo questo video, siamo riusciti almeno a scappare. Ragazzi, passate dal canale di tutti i partecipanti perché ci sarà un video ovunque. Noi vi salutiamo con queste immagini molto tenere di Jason che torna da sua madre. Che cucciolo! È sempre bello tornare ai propri genitori, devo dire. Un saluto da Edzalb. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!